Mattia Scuffa in Molise per vacanze, poi hai la famiglia qui a Campobasso, allora un passato in Lega Pro e adesso comunque sei sul mercato dopo l'esperienza al San Marino? Sì, sì, è normale, vengo a trovare gli amici, sto qua un po' adesso, vado un po' a casa, ma le cose importanti sono continuare su questa strada, continuare a lavorare e adesso vediamo dopo questa parentesi a San Marino, vediamo dove ci andremo quest'anno. La tua carriera è stata fatta di tanti viaggi, hai girato praticamente tutta l'Italia, Gela, Pisa, le esperienze più significative, quei cinque anni a Padova dove hai fatto anche una finale playoff per la Serie A, poi persa contro il Novara. Sì, sì, sicuramente, quei anni in Serie B mi hanno marcato un po', sono stato bene, a Padova sono stato benissimo, ma ormai quelli sono i ricordi che ti porti dentro, adesso bisogna pensare al presente e andare avanti, ma sempre penso a lavorare con sacrificio, umiltà e penso che è la ricetta per andare avanti in tutto. E non dimentichiamoci l'esperienza a Isernia, qui in Molise, ecco, puoi essere considerato quasi un molisano acquisito, visto che poi hai trovato l'amore qui in Molise. Sì, sicuramente, da Isernia sono partito, mi hanno dato la possibilità di arrivare qua in Italia e sempre ringrazierò ogni squadra dove sono stato, mi sono trovato bene, allora sicuramente l'Italia mi ha dato tanto. Campobasso in Serie D che punta la Lega Pro, è una piazza interessante per qualsiasi giocatore, hai avuto degli abboccamenti con il nuovo direttore sportivo? No, sicuramente è presto, è presto per parlare adesso, adesso piano piano, lo so che piazza è Campobasso, è una piazza bella, che è competitiva, che merita altre categorie, sicuramente, ma adesso penso che la gente che ci sta dentro vuole fare le cose per bene. Ecco, ma ti piacerebbe giocare a Campobasso? No, non si butta via niente, Campobasso è una bella piazza. Anche in Serie D puntando a vincere? Sicuramente, non le chiudo, le porto a nessuno, sicuramente quando c'è un bel progetto, una situazione bella, bisogna vedere tutto intorno, ma penso che ci sta della gente competente che può fare le cose bene. Se non ti dovesse chiamare Campobasso, per te è già pronta una piazza di Lega Pro? No, ancora è presto, vediamo cosa c'è in giro, non ho parlato neanche con nessuno di Campobasso, non ho parlato da nessuna parte, ancora è presto, vediamo adesso che comincia il mercato e che cosa si prevede. Senti, tu che sei un veterano dei campionati della vecchia Serie C, un pensiero su questa scommessopoli, questi giri di scommesse illecite, partite truccate, insomma ogni giorno si sente una notizia nuova che getta del fango obiettivamente sui campionati di Lega Pro e Serie D, che sono quelli investiti in questi giorni dall'indagine della procura di Catanzaro, definita Dirti Soccer, calcio sporco. Sì, sicuramente è una brutta immagine sia per il calcio italiano, perché da quando è uscito queste notizie e tutte queste cose, il calcio italiano ha perso tanto, ha perso come immagine a livello mondiale, ma sicuramente la giustizia dovrebbe fare cose ben diverse per fare che queste cose non succedano. In bocca al lupo, Mattias. Grazie.